Il Sulmona Fuzzall interrompe l'imbattibilità casalinga nella gara che invece non avrebbe dovuto perdere. Delusione ed amarezza da parte della squadra di Benjamin Fonte per aver ceduto l'intera posta in palio alla Nobel Boys nello scontro al vertice della quarta di ritorno del girone A della Serie C2. Match tiratissimo nei primi minuti che fa registrare anche tanta sfortuna dei padroni di casa che colpiscono due volte il palo. All'undicesimo conquista palla Krasnici ed arriva nell'area avversaria provando a battere De Flavis ma il palo a negare la gioia del gol. Quattro minuti dopo Ginnetti verticalizza per Osuna che scarica il destro ma c'è il secondo palo consecutivo dei Biancorossi. La partita si sblocca al ventiduesimo con il vantaggio dei Sulmonessi siglato da Liberatore che conquista il pallone anticipando Vadini e riesce ad imporsi per l'1-0 del Sulmona Fuzzall. A questo punto Benjamin Fonte richiede la massima attenzione ai suoi che arrivano a commettere cinque falli. Ogni minimo errore può costare caro ma gli avvertimenti non sono serviti in quanto in pieno recupero Noter Andrea afferma Vadini per il sesto intervento falloso che determina il tiro libero. Alla battuta si porta l'allenatore giocatore Marco D'Alonso con Silvestri che riesce ad opporsi. Sulla ribattuta si propone Clemente che sigla l'1-1 che chiude il primo tempo in quanto arriva immediato il duplice fischio di Giovanni di Nicola dell'Aquila. Ad inizio riprese i Peligni cercano il nuovo vantaggio ma un colpo di testa di degli esposti finisce di poco in out. Il 2-1 arriva all'ottavo con Veneziale che servito da Osuna trafiggere Flavis. Per i locali però non c'è nemmeno il tempo di gioire perché gli adriatici pareggiano all'undicesimo con Vadini che servito da Piarulli si gira e conclude con Silvestri che non riesce a fermare il pallone e così per la seconda volta consecutiva la Nobel Bois pareggia. Il Sulmona prova a reagire ma al diciassettesimo Ginnetti manda di poco fuori. Al diciannovesimo la squadra di D'Alonso passa in vantaggio con basso che raccoglie un assist dalla destra di Ginnetti per il 3-2. Questa volta sono i Sulmonissi che vengono chiamati ad inseguire un pareggio che non arriverà. Al ventiduesimo ci prova Veneziale ma è bravo De Flavis ad opporsi con un piede. Sul capo olgimento di fronte Vadini spreca l'opportunità per incrementare il punteggio sbagliando completamente la mira. Il match termina con la vittoria della Nobel Bois che consolida il primato mentre il Sulmona Futsal scende al quarto posto a meno 5 dalla vetta.